Questo Vangelo che abbiamo appena ascoltato, penso lo riconosciate, è il Vangelo della presentazione del Signore. È la festa della presentazione del Signore nella Chiesa d'Oriente, indovinate come si chiama? La festa dell'incontro, i papanti. E quindi siamo a metà della novena ed è proprio, se vogliamo dire, un po' il centro di questo percorso. Perché questo Vangelo ha proprio come caratterizzazione l'incontro. Ma prima degli incontri dei vari personaggi, tra cui Maria, tra di loro, il primo incontro è quello di Dio con il suo popolo. In Gesù l'umanità, incontra il Padre nel Tempio. Sapete, ricordiamo, in tutto l'Antico Testamento, il Tempio era per eccellenza il luogo di incontro con Dio. Ebbene, Gesù, vero uomo e vero Dio, nella sua vera umanità, viene portato al Tempio per essere consacrato a Dio. E questa è una cosa che noi, peccatori, non sappiamo fare. Non siamo in grado di affidarci totalmente a Dio. Perché abbiamo sempre un po' di dubbino. Eh, ma se ti dai troppo a Dio, poi Dio, tu gli dai un dito e si prende il braccio, no? Sì, preghiera, sì, devozione. Però, allora, invece, Gesù, che è colui che ha tutta la sua fiducia nel Padre, viene portato al Tempio. E in Gesù ci siamo tutti noi. Ricordate, in questi giorni abbiamo tanto insistito, no? Sul corpo, su Gesù capo e noi corpo. Vergine fatta chiesa, fatta comunità, no? Peccatori fatti comunità. Ecco, Gesù, per eccellenza, è la persona che è in realtà una rete, che è tutta legata. Gesù è tutto legato a tutti noi. Ricordate il concilio, no? Concilio Vaticano II, in Gaudium e Spes, ha questa bellissima espressione. Il Figlio di Dio, attraverso la sua incarnazione, in qualche modo, si è legato a ogni uomo. A ogni uomo. Anche donna, eh? A ogni uomo e ogni donna. Allora, Lui, che viene portato al Tempio, in realtà, in nuce, in promessa, ci siamo tutti noi, finalmente fiduciosi, affidati al Padre. E cosa sperimentiamo in Gesù, offerto, consacrato al Tempio? Che il Padre non trattiene per sé. Il Padre benedice, il Padre abbraccia, il Padre consola e il Padre invia, affinché altri, possano sperimentare attraverso i Suoi figli, che è Lui e il Padre di tutti. Allora, in Gesù vediamo questo inizio di questa umanità che tutta quanta, il Pastore e dietro di Lui tutte le pecore, il Capo e tutto il corpo, viene finalmente incontro al Padre per accogliere la Sua consolazione, il Suo amore, la Sua pace. Ora, e questo è, diciamo, il tema fondamentale, no, di questa festa dell'incontro, Dio che incontra il Suo popolo, poi, come dicevamo, come abbiamo visto, ci sono altri incontri che sono possibili in virtù di questo incontro. Nel senso che, siccome noi siamo tutti in Gesù, allora siamo vergine fatta Chiesa, vergine fatta comunità, peccatori fatti Chiesa, fatti comunità, allora anche i nostri incontri, come stiamo dicendo in questi giorni, sono incontri di grazia, no? E lo vediamo negli incontri successivi. Anzitutto c'è Simeone, no? Simeone vuol dire Dio ascolta, non Simeone ascolta Dio, ma vuol dire Dio soggetto ascolta. E qui lo vediamo, no? Qui proprio lo vediamo. Simeone veramente sperimenta il suo nome, cioè che Dio mantiene le sue promesse, Dio ascolta le preghiere degli uomini. Dio mantiene le sue promesse. E come lo vediamo? Lo vediamo anzitutto con una grossa sottolineatura, ancora una volta, dello Spirito Santo. Vi ricordate due giorni fa parlavamo della Pentecoste, eh, che si scatenano in un incontro di fede tra Maria ed Elisabetta. Qui in due righe, tre, nella mia Bibbia tre righe, si parla tre volte dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo aveva preannunciato a Simeone, lo Spirito Santo era su Simeone, lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non sarebbe morto prima di vedere il Messia e infine lo Spirito lo muove per andare al Tempio. E diciamo anche la quarta, c'è una quarta volta che lo Spirito Santo agisce, che non è detto nel Vangelo, che lo Spirito Santo gli fa riconoscere Gesù come l'inviato di Dio, perché Gesù non aveva scritto sul pannolini, sono il figlio di Dio. Non era scritto così, no? Quindi se Gesù, se Simeone lo riconosce, è anche perché ha il metal detector, vi ricordate di ieri, no? Lo Spirito che lo aiuta a riconoscere il Signore venuto per noi. E cosa fa Simeone? Allora, anzi, anzi, Simeone lo prende fra le braccia, no? Allora, questo non è un dettaglio così giusto di cronaca. Il fatto che lo prenda tra le braccia e lui era anziano ha un forte significato simbolico. Di solito le braccia degli anziani sono braccia esili, perché non hanno più tanta forza gli anziani, no? E in qualche modo allora indicano queste braccia che prendono la vita, il virgulto della vita, il figlio di Dio. Gesù dirà nel Vangelo, io sono la via, la verità è la vita. Allora, le braccia morenti di un anziano, esili che prendono la vita, sono proprio il simbolo di Israele e dell'umanità che attende il Signore. Chi attende il Signore lo prende fra le braccia. Il desiderio è il motore che ci rende capaci di accogliere il Signore. Queste braccia esili che tanto hanno atteso il Signore. E in questo incontro tra Simeone e il Signore cosa succede? La lode, no? Simeone benedisse Dio dicendo, ora lascia o Signore. Questo lo vedevamo anche sempre nell'incontro tra Maria e Elisabetta. In questa Pentecoste generata che si è realizzata nell'incontro tra Maria e Elisabetta, nasce la lode di Maria. L'anima mia magnifica il Signore. Perché quando noi ci rendiamo conto della presenza di Dio, sempre nasce la lode. Dio è sempre al di là, è sempre grande. E qui c'è un rischio, sapete? C'è il rischio che in noi la lode si sia spenta. Forse in me, forse in me, la lode si è spenta. Forse anche da tanto tempo. Allora questo è un segnale, è un sintomo, no? Quando hai male al ginocchio. Magari è un sintomo che hai l'artrosi e devi prendere, è il cortisone. Non lo so, sparo. Se si è spenta la lode, forse è un sintomo che la fede si sta trasformando non più in un incontro, ma in un'idea, in un insieme di concetti in cui si sa di Dio com'è e com'è non è. E quando una cosa la sai non ti meraviglia se la riascolti, vero? Però se Michele è innamorato di Giussi, e io dico a Michele, ma sai che ho visto Giussi? È proprio bella, brava e buona. A lui non è che si annoia, sai? Proprio non si annoia. È felice che io gli dico questo. Allora il rischio di una fede che diventa un'idea, un insieme di concetti. Questo rischio è rivelato quando dall'assenza della lode, quando la lode in noi si spegne. Invece quando c'è l'incontro la lode si accende, no? E Simeone è un precursore di San Francesco. Anche lui accoglie la morte con gioia. dice, ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace. Sta dicendo, Signore, permettimi di morire, perché ho visto il tuo figlio. In questo affresco qui, proprio dove c'è San Francesco che muore, accanto qui all'iconostasi, no? È molto bello che Francesco morente è vestito di bianco, perché il bianco è il colore della luce, è il colore della vita, è il colore del risorto. Allora Francesco muore cantando perché sperimenta che il suo morire è già partecipare della vita di Dio. Allora Simeone cosa percepisce, Simeone? Siccome lui che è vecchio, con le braccia esili, ha accolto la vita, la morte oramai è diventata abitata, non è più solitaria, è diventata un luogo di incontro. La morte è diventata un luogo di incontro, per questo non fa più paura. E poi abbiamo Maria e Giuseppe che si meravigliavano, si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Ancora una volta, no? Questo tema della lode. Dio, sentire il Signore, vedere il Signore, riscoprire la sua opera, sempre ci stupisce, sempre. Allora questo è un bel segnale di vita spirituale viva. Chi si sa stupire delle opere di Dio, sicuramente ha una vita spirituale viva, attiva. E poi l'annuncio di Simeone a Maria, in cui la benedice e poi cosa fa? Le annuncia in qualche modo la missione di Gesù. In questi giorni più di una volta abbiamo detto, vi ricordate, che Maria in qualche modo fa anche lei il suo cammino di scoperta del suo figlio. Diceva il Cardenale Spiedrich, si è convertita, nel senso che è entrata sempre di più in questo mistero di Dio, di un Dio che ama così tanto, da dare la vita fino a morire, per riceverla di nuovo dal Padre, ma non più come una vita fisica, ma come una vita biologica come la nostra, intendo dire, ma come una vita che è unità, il corpo. Allora, entrare in questa realtà di questo Dio così Dio da superare ogni nostra aspettativa, al punto che è Lui che dà la vita a noi, nel senso che Lui entra nella morte per noi. Questo anche Maria ha dovuto fare il suo cammino, no? E forse questo è un cammino che, benché siamo battezzati, benché siamo cresimati, benché siamo, non so, religiosi, religiose, sposati, persone, catechisti, quello che siamo, che andiamo alla messa spesso, eccetera, nonostante le prediche, nonostante tutto, forse anche per noi questo è ancora un cammino davanti a noi, di accogliere veramente che il nostro Dio paradossalmente ci scandalizza, perché non è il mago merlino che toglie il male, o che non è spic e span, come si chiama quello lì, il maestro lindo che toglie il male con una botta di spugna. Il nostro Dio entra nella morte per ridare a tutti la vita, a tutti coloro che sono morti. E infatti, allora, questa premessa illumina la profezia di Simeone, perché Simeone dice Ecco, Egli, Gesù, è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. Noi spesso, quando leggiamo questo versetto, pensiamo, è qui per la caduta di alcuni e la risurrezione di altri. Noi spesso facciamo così, ma invece il testo dice la stessa cosa, è qui per la caduta e la risurrezione di molti. Cioè, solo i caduti risorgono, solo chi è caduto si può rialzare, solo i morti risorgono. Come noi siamo senza vita, ricordate le braccia di Simeone, no? Questa attesa così lunga, che è la nostra condizione di povertà, senza Dio siamo perduti. In questa situazione Dio non toglie la macchina, non toglie il problema con Mastro Lindo, ma Dio entra, feconda, prendendo su di sé il nostro nulla e riempiendolo di vita. Ancora gli affreschino, proprio lì sulla navata, alla vostra destra, c'è Gesù che viene deposto nel sepolcro. Quell'affresco rappresenta il massimo della somiglianza di Cristo a noi. Solo gli uomini muoiono, Dio non muore. Eppure Dio entra nella morte affinché la sua vita risplenda in noi. E come ci siamo detti tante volte, la sua vita è la vita del corpo, vergine fatta chiesa, peccatori fatti comunità, una cosa sola, la comunione che diventa la vita. Allora, anche oggi, vogliamo chiedere al Signore questo grande dono per l'intercessione di Maria. Quello di lasciarci sempre più provocare dal suo modo di essere Dio. Questa spada che attraversa l'anima di Maria. In realtà, in Maria attraversa l'anima, la vita di tutta la Chiesa, no? Tutta la Chiesa vive questo, quindi noi compresi, eh? Tutta la Chiesa vive questo grande dissidio. Il Figlio di Dio si dona a noi e l'umanità non lo accoglie. E l'umanità, non parlo di quelli fuori, eh? Io parlo di me. Il Figlio di Dio si dona a me e io non lo accolgo. Forse anche alcuni di voi fanno questa esperienza come me. Che il Signore si dona a te e fai fatica ad accoglierlo. Allora, questa spada è la spada proprio che attraversa l'umanità. Che ci concede al Signore questo dono grande per l'intercessione di Maria. Di lasciarci introdurre sempre più in questa paradossalità dell'amore di Dio. Affinché ci lasciamo donare da Lui la comunione della vita battesimale. Perché la comunione non la facciamo noi. Viene da Lui quando abbiamo rinunciato a farla noi. Perché Lui è venuto per la caduta e la risurrezione. Nella misura in cui ci rendiamo conto che noi non siamo capaci. Che la comunione non è opera nostra. Che i nostri incontri da soli, senza lo Spirito, non sono fecondi. Quando riconosciamo questo, allora abbiamo anche noi le braccia aride, ma aperte per accogliere questo bambino e la nostra vita, la nostra comunione. Questo vi riconosceranno. Maria, Madre dell'incontro, prega per noi.